I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un pregiudicato 37enne accusato di reati contro il patrimonio. I militari a seguito di indagini hanno eseguito la misura restrittiva dopo aver fatto luce su alcuni episodi riconducibili a furti e vari reati predatori sempre a carico dell'indiziato. Alla luce di questi eventi l'autorità giudiziaria ha quindi deciso di applicare la misura restrittiva concedendo al 37enne il beneficio degli arresti domiciliari. Per il resto i carabinieri della stazione di Caltagirone retta dal luogotenente Claudio Buscemi visto il crescente fenomeno dei furti nelle abitazioni specie quelle in villeggiatura hanno intensificato i controlli, il tutto in virtù delle varie denunce che diversi cittadini stanno presentando sia ai carabinieri sia al commissariato di polizia. E per restare in tema di cronaca con particolare riferimento ai furti nelle residenze estive nelle zone di villeggiatura di Santo Pietro e Borgo Piano San Paolo insistono diverse abitazioni di cittadini maltesi che hanno subito furti nelle rispettive abitazioni. Più cittadini maltesi che hanno acquistato villette in queste zone di villeggiatura hanno quindi denunciato tali furti alle forze dell'ordine fornendo loro immagini dai sistemi di videosorveglianza ai fini di sostenere l'attività investigativa. I cittadini maltesi si appellano alla sensibilità delle forze dell'ordine affinché stronchino questi spiacevoli episodi di microcriminalità. Grazie a tutti.